Sono Massimo Rospoker, ricercatore di FBK Easy, e il titolo della mia relazione è Dall'oralità alla stampa, transizione o rivoluzione. Questo intervento riguarderà uno dei passaggi fondamentali che hanno caratterizzato la modernità occidentale, ed è l'avvento della stampa Caratteri Mobili, avvenuto all'incirca alla metà del 1400. A questa invenzione gli storici hanno spesso associato un carattere rivoluzionario, poiché hanno ampliato il pubblico dei lettori e la possibilità di diffondere notizie, idee e opinioni in confini sempre più basti. Ora, l'idea della Printing Revolution è stata recentemente mitigata dagli storici, che hanno invece iniziato a prendere in considerazione la persistenza di altri media, ben addentro la cosiddetta Galassia Gutenberg. Per cui gli storici ora analizzano la presenza dell'oralità, del manoscritto, in un periodo in cui la stampa diviene il mezzo di comunicazione di massa. L'idea è quindi quella di sottolineare come il passaggio dall'oralità alla stampa abbia più, assuma più i connotati di una transizione, anziché quelli radicali di una rivoluzione. Naturalmente la storia non si ripete mai, ma aiuta a comprendere il presente in cui viviamo. Un presente dove, 500 anni dopo, ci troviamo di fronte a una nuova rivoluzione nella storia della comunicazione, con l'avvento di Internet che ha modificato i nostri modi di comunicare. E una riflessione su una rivoluzione, una transizione di 500 anni fa, può aiutarci a comprendere il presente che stiamo vivendo. Grazie. Grazie. Grazie.